Sono state avviate in prefettura a Catanzaro le audizioni disposte nell'ambito dell'indagine conoscitiva per la determinazione dell'EP contestualmente al tema dell'autonomia differenziata. Le audizioni sono state avviate dalla Commissione parlamentare per le questioni regionali, nel corso delle quali sono stati auditi per primi il presidente della provincia di Catanzaro, Amedeo Mormile, e del sindaco del capoluogo calabrese, Nicola Fiorita. Stamattina abbiamo audito il sindaco di Catanzaro, il presidente della provincia, il presidente della Camera di Commercio, insomma, è stato un dibattito veramente fruttuoso e tutti e tre hanno concordato se si attivano i LEP sono d'accordo per l'autonomia differenziata. Quindi questo è il nostro compito, intanto è ascoltare tutti quanti, far vedere che lo Stato c'è, è presente sui territori per capire tutte le difficoltà, su quale materia stanno più in difficoltà e quale meno e il nostro compito è questo di ascoltare tutti e riportarla all'interno della bicamerale e poi sarà il Parlamento a fare l'ultima decisione. Se ci sono le risorse per superare la spesa storica e per assicurare a tutti i cittadini gli stessi diritti, benvenca questo disegno di attuazione del titolo quinto della Costituzione, che prevede appunto l'autonomia differenziata, il finanziamento dei diritti allo stesso modo per tutti i cittadini e la perequazione. Se non ci sono le risorse di che parliamo? Quindi ho detto anche oggi quello che ho detto pubblicamente e anche privatamente al Ministro Calderoli. Non ho pregiudizi verso l'autonomia differenziata perché credo che il modo tradizionale di rapportarsi dei gruppi dirigenti del Sud nei confronti dei gruppi dirigenti del Nord solo in maniera rivendicativa abbia prodotto soltanto sperequazione nel corso degli anni. Non ho pregiudizi, non ho alcuna soggezione. Sono convinto che ci sono molti temi che potrebbero essere oggetto di intese tra la Calabria e il governo che aumenterebbero le risorse per la Calabria. Quindi nessun pregiudizio, ma l'autonomia differenziata è solo una possibilità offerta dalla Costituzione.